Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. La storia di Chiara Gualzetti è in casa alle 9 del mattino, dicendo ai genitori che sarebbe rientrata subito, ma le ore passano e la ragazza non torna. Preoccupati, i parenti segnalano la sua sparizione. Iniziano le ricerche e, in breve tempo, lunedì 28 agosto, la ragazza viene trovata, senza vita, nel territorio del parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio, in cima ad un'altura, in un campo, ai margini di un bosco. Chiara era a poche centinaia di metri da casa sua, dove papà Vincenzo e mamma Giussi hanno atteso per più di 24 ore, con il cuore in gola. Gli investigatori scoprono immediatamente che Chiara era uscita per incontrarsi con un amico. Nella notte di lunedì, verso le 4.30 del mattino, rintracciano la persona con cui doveva incontrarsi. È un ragazzo di 16 anni, di nome Andrea. A carico del giovane, oltre alla confessione, ci sono diversi riscontri oggettivi. Sul corpo di Chiara sono stati trovati dei tagli alla gola e al torace, ragione per cui l'ipotesi di omicidio è la più accreditata. La famiglia della ragazza conosce Andrea e sa che era un amico della figlia, niente di più. Quando Chiara è scomparsa, gli inquirenti hanno sentito le persone che potevano averla vista per ultima, tra cui lo stesso Andrea. Sembra che il giovane abbia tentato di sviare i sospetti, dicendo che Chiara doveva incontrarsi con qualcuno conosciuto sui social. Invece è stato proprio lui a vederla per ultimo. I sospetti sul giovane Andrea si intensificano. Quando il papà di Chiara, Vincenzo, riesce a leggere alcune chat sul telefonino della figlia. E da questi messaggi emergono minacce nei confronti della ragazza. Resta però da capire il movente di tanta violenza. Andrea viene interrogato in caserma a Bazzano fino a Notte Fonda. Ma, oltre a lui, sono sentite molte altre persone che conoscevano la vittima. Chiaretta o Bimba05, usando i nomi scelti per i social, era una ragazzina come tante della sua età. Amava cantare le canzoni e riprendersi col cellulare. Le piaceva ritrarre il gatto oppure la cagnolina, a cui era tanto affizionata. Annotava frasi, disegni, appunti. Faceva passeggiate con l'amica del cuore nei boschi e nelle campagne vicino a casa. Scavando nei social della giovane, gli inquirenti trovano i pensieri e i tormenti di Chiara. Per tutte quelle volte in cui mi sono sentita inutile. Per tutte quelle volte che mi sento sola. Per tutte quelle volte che non ho bisogno di parole, ma di qualcuno che mi sa ascoltare. Per tutte quelle volte che ti abbraccio mentre sono seduta e vorrei che il tempo si fermasse. Queste sono le parole scritte da Chiara sotto una foto che la ritrae con la sua cagnolina in braccio. A fine settembre dedicava lunghe frasi e un video al suo gatto nero. Ti ricorderò per sempre. Il tutto degli altri non sarà mai come il tutto tuo. Questi ricordi bruciano ancora come una fiamma bollente. Spesso mi graffiano dall'interno. Ma so che anche da lassù ti prenderai cura di me e mi penserai. Una delle ultime foto postate la ritrae in piedi e probabilmente nel giardino di casa. Sguardo sbarazzino, ingonna e stivaletti neri. Perché il passaggio dalla bambina alla giovane donna è anche guardarsi allo specchio e cercare di piacersi. Ci sono espressioni anche cupe malinconiche nelle giornate di Chiara da cui emergono sensibilità ma anche un certo disagio. Un anno prima della sua scomparsa ha scritto Mi dicono che ho un bel corpo. Mi dicono che sono intelligente e bella. E va sempre a finire che, quando lo dicono, lo dicono per approfittarsi del mio corpo o della mia intelligenza. Oppure spariscono perché si stancano di provare ad usare il mio corpo e si stancano della mia intelligenza. E sotto una serie di selfie in cui si nasconde gli occhi, scrive Non sono perfetta, però a volte mi piace il disastro che sono. Ancora, sotto il ritratto di una ragazzina tratteggiato a matita, annota Sii forte perché viviamo in un mondo di predatori, non ci penseranno due volte prima di approfittarsi delle tue debolezze. A inizio 2020 racconta di una sua ingenuità, di errori, di una forza che non riusciva a trovare per affrontare chi, parole sue, la tormentava da anni, comprese in giro. Queste erano le frasi che scriveva la giovane Chiara. Era Arciera del Melograno, una compagnia di arcieri che frequentava da un paio d'anni, inserita nel circuito delle rievocazioni storiche, che organizzava corsi per principianti nella palestra di Monteveglio. Amo la musica, mi affeziono facilmente e sono un gran disastro. Questa è la sintesi che la ragazza dava di se stessa. Dall'interrogatorio di Andrea emerge che i due si conoscevano e si frequentavano da qualche anno, ma non avevano una relazione sentimentale. In una chat il ragazzo ha scritto che l'ha aiutata ad uccidersi. Il difensore di Andrea sottolinea che il suo assistito è molto scosso e su questa affermazione ci torneremo. Il ragazzo però, oltre a confessare e ricostruire in maniera lucida e precisa il delitto, giustifica in parte il movente che comunque continua ad essere poco chiaro. Andrea sostiene di sentire un demone che gli parla da molti anni. Spiega di aver agito sulla base di una spinta superiore, una rabbia che lo spingeva ad essere violento. Ma poi riferisce anche che la ragazza gli aveva espresso il desiderio di morire. La voce che ha ordinato al giovane di uccidere Chiara apparteneva a Samael, l'angelo del giudizio. Inutile cercare un movente preciso alle parole di Andrea. Ci sono più motivi, stando a quel che dice, e il più potente è tutto nella sua mente, ed è questo demone. Il ragazzo ha precisato. Da tanto tempo parlo con Samael, l'angelo del giudizio. L'ho anche visto, un uomo alto, di fuoco. Per poi continuare dicendo che sente dentro una voce che lo costringe a fare cose sempre più cattive. E per spiegare meglio chi è il suo Samael, Andrea afferma che è come quello di Lucifer, la serie televisiva su Netflix. Evidentemente un'altra delle sue fonti di ispirazione. Demoni, crudeltà e voci. È lui che decide di punire Chiara, perché lo opprimeva con le sue continue attenzioni. Gli inquirenti hanno elementi per pensare che Andrea abbia pianificato il delitto, dando appuntamento a Chiara con l'intenzione di ucciderla, portando con sé un coltello che poi è stato ritrovato, ripulito, a casa sua. Ma i dettagli del dramma non finiscono qui. Oltre al coltello usato per uccidere Chiara Gualzetti, nella casa del sedicenne sono stati trovati anche i suoi abiti sporchi di sangue e il cellulare della vittima, oggetti di cui il ragazzo voleva disfarsi. Gli inquirenti hanno sequestrato i telefoni per ricostruire i rapporti tra i due attraverso i messaggi che si sono scambiati. Andrea però ha cancellato alcune chat prima di essere rintracciato dai militari. Il ragazzo afferma di aver agito da solo, ha dato appuntamento a Chiara, l'ha portata ai margini del bosco nel parco e l'ha uccisa. In quel punto, parzialmente nascosto da un cespuglio, il cadavere è rimasto per un giorno. L'ipotesi d'accusa formulata dalla Procura per i minorenni di Bologna è omicidio, aggravato dalla premeditazione e dal fatto che la vittima aveva meno di 18 anni. Vincenzo, il papà di Chiara, rompe il silenzio dopo giorni di dolore. Conosce Andrea perché ha fatto con lui uno stage come elettricista. Non ha mai notato comportamenti strani, quindi a suo parere il ragazzo non ha nessun demone interiore. È un alibi che si è creato per giustificare il suo folle gesto. L'uomo spera che Andrea paghi per l'atroce delitto commesso. Questo anche perché, se l'omicida fosse riconosciuto incapace di intendere e volere, in quanto la stessa procura per i minorenni di Bologna potrebbe chiedere una perizia psichiatrica, c'è la possibilità che Andrea non venga processato e torni libero dopo non molto tempo. Nel frattempo emerge una novità. È stato Andrea a scrivere a Chiara e ad insistere per vederla. Sabato 26 ha iniziato a scriverle in chat chiedendole di incontrarsi il giorno dopo. Questo è il messaggio che ha inviato alla ragazza. Ci vediamo alle 9.30. Stiamo fuori mezz'ora a chiacchierare. E poi ti riporto a casa. Lei è uscita di casa col batticuore perché il ragazzo dei suoi sogni, che l'aveva a lungo ignorata, le aveva dato un appuntamento. Finalmente. Dalle chat si nota proprio l'insistenza con lui che le ha chiesto di vedersi. E vi ricordo che l'ha ignorata per un sacco di tempo. Chiara tempo prima gli aveva scritto «Se mi uccidessi non mancherei a nessuno». Era ovvio, cercava la sua attenzione, avrebbe voluto che Andrea le scrivesse che no. Non era vero. A lui sarebbe mancata molto. Invece la risposta che ha ricevuto Chiara è «Ti do una mano io se proprio vuoi». Fra le chat c'è anche un messaggio mandato il lunedì. A un'amica, in cui Andrea afferma «Ho ucciso Chiara». Questa ragazza è corsa a dirlo ai carabinieri, accompagnata dai genitori, proprio a poche ore dal ritrovamento del corpo. Sembra inoltre che ad un parente abbia detto pochi giorni prima dell'omicidio «Domenica ucciderò una ragazza, ma non è stato preso sul serio». Questa è la tristissima storia di una ragazzina che si è invaghita e fidata della persona sbagliata, che ha coltivato la speranza di essere notata da Andrea, considerata amata. E invece quel ragazzo l'ha uccisa a sangue freddo. Chiara è morta, accoltellata e presa a calci in faccia, nell'afa insopportabile di una mattina di giugno, a pochi passi da casa sua, ma lontanissima da tutto e da tutti. Il GIP convalida il fermo e dispone la custodia cautelare in carcere per il giovane Andrea. Viene anche confermata l'aggravante della premeditazione. A questo punto Andrea spiega meglio la dinamica del delitto. Ha dato appuntamento a Chiara e ha infilato il coltello nello zaino. Giunti al parco dell'abbazia, l'ha fatta voltare con la scusa di volerle dare un regalo e le ha sferrato prima due coltellate di spalle, poi due frontali che l'hanno uccisa. Poi ha infierito sul corpo con calci e pugni. Infine ha fatto sparire il telefonino della ragazza, ha cancellato le chat e si è premurato di ripassare davanti casa di lei dove c'erano le telecamere. Ovviamente il cellulare poi è stato ritrovato e recuperato, altrimenti il padre di Chiara non avrebbe mai potuto leggere le chat. Quando è sceso dalla collina aveva un solo pensiero in testa, andare con gli amici al mare, divertirsi. Effettivamente è proprio la prima cosa che ti viene in mente dopo aver commesso un omicidio. Quindi domenica mattina dopo aver ucciso Chiara, torna a casa, lava via il sangue dalla lama del coltello e lo ripone nel ceppo. Si toglie i vestiti sanguinati, li lascia in camera sua, poi esce per andare a svagarsi con gli amici. Durante l'interrogatorio tutti sono rimasti colpiti dalla freddezza nella descrizione dei dettagli del delitto. Nessun crollo emotivo, nessuna lacrima, nemmeno una parola di dispiacere. A tratti sprezzante verso quella ragazza che aveva il solo torto di volergli bene, che ha descritto come depressa e fastidiosa, una che si accollava. E meno male che l'avvocato di Andrea l'aveva definito molto scosso. Ma c'è la necessità di rilasciare queste dichiarazioni non veritiere che tanto poi vengono a galla? Tra l'altro dichiarazioni di non poco conto, oserei dire. Dalle indagini emergono nuovi elementi. Nella mano di Chiara è stata trovata una ciocca di capelli. Si presume del suo assassino. Chiara si è difesa. Ha lottato con tutte le sue forze per sopravvivere. Ma i colpi inferti non le hanno lasciato scampo. Il GIP del Tribunale per i minorenni convalida il fermo per Andrea, perché può uccidere ancora, o fare del male a se stesso, o ad altri. Nelle carte si legge. La confessione forniva una ricostruzione dell'accaduto che, benché inoppugnabile, appare a dir poco raccapricciante, sia per i numerosi dettagli macabri e cruenti, sia per la freddezza del racconto, sia per il movente incredibile ma estremamente inquietante. D'altro canto, il GIP esclude al momento che il ragazzo possa aver agito in preda a un raptus che ne abbia minato le capacità di intendere e di volere. Al contrario di quanto sostiene Andrea, che afferma di aver compiuto quelle azioni spaventose spinto da un demone di cui sente la voce. Il giudice mette, infatti, nero su bianco, che Per la vita regolare costantemente condotta, l'ambiente familiare è sostanzialmente adeguato. Le dichiarazioni degli amici e di lucidi e freddi tentativi di nascondere le tracce del delitto e di negare le proprie responsabilità, offrendo una falsa pista ed epistante indicazione circa altro giovane che avrebbe dovuto incontrare la ragazza, al momento appare capace di intendere e di volere. Durante un secondo interrogatorio Andrea risponde con un tono un po' seccato a tutte le domande che gli vengono poste. Racconta gli ultimi istanti di vita di Chiara. Dice Quando capisce che non può farla franca, ai carabinieri che gli elencano gli indizi raccolti contro di lui, risponde con un semplice Lo sapevo che prima o poi sareste arrivati a me. Fra le altre fonti di prova ci sono i suoi vestiti sporchi di sangue, il coltello ripulito e riposto nel ceppo della cucina di casa sua, le ammissioni fatte all'amica con i messaggi vocali, il video che lo riprende mentre si allontana con Chiara e la custodia del cellulare della ragazza che ha deciso di tenere quasi fosse un piccolo trofeo. Il centro giovanile che frequentava Andrea aveva consigliato alla madre di farlo seguire da una psicologa, a causa di alcuni scatti di rabbia che erano stati notati anche in famiglia. Ma la terapeuta da cui andava da poche settimane aveva rilevato solo un comune disagio giovanile. Solo tre giorni prima che uccidesse Chiara, Andrea si era presentato alla seduta con le lenti a contatto rosse e le aveva parlato del demone. A quel punto la psicologa ha consigliato alla madre di prendere un appuntamento con uno specialista in neuropsichiatria. La dottoressa, sentita dagli inquirenti in lacrime, ha spiegato che nulla poteva far presagire il suo piano omicida e che Andrea non le ha mai parlato di Chiara. I primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della ragazza hanno evidenziato come causa della morte due coltellate al petto, sferrate frontalmente. Ma, come sappiamo, sono quattro in tutto le coltellate che il medico legale, insieme ai consulenti della difesa e della famiglia della vittima, ha contato sul corpo di Chiara, segnato anche dai lividi lasciati dai calci che Andrea ha sferrato quando è caduta a terra, dopo essersi difesa. Non ci sono demoni nella mente dell'assassino di Chiara Gualzetti. Lo stabilisce proprio la perizia psichiatrica alla quale è stato sottoposto, per stabilire se fosse capace di intendere e volere quando ha ucciso Chiara, o se fosse affetto da patologie o alterazioni psichiche tali da determinare un vizio totale o parziale di mente. La perizia, a frutto di quasi quattro mesi di colloqui ed esami e a disposizione delle parti, doveva rispondere anche ad altre domande. La capacità di Andrea di affrontare il processo, l'eventuale pericolosità sociale e il grado di maturità in relazione alla sua età. Secondo quanto trappela dalle carte, il consulente della procura conclude per la piena capacità di intendere e volere del giovane. al momento del fatto, e quindi per la sua capacità di affrontare un processo. È probabile che la procura chieda la forma del giudizio immediato, ritenendo di avere un quadro probatorio ormai blindato sulle sue responsabilità. La conclusione dello psichiatra, che rende superflua la risposta al quesito sulla pericolosità sociale, ha escluso la presenza di profili psichiatrici, deliri o allucinazioni, che abbiano inciso sulla capacità del sedicenne di comprendere quanto stava facendo quel giorno. Come previsto, terminate le indagini, la procura per i minorenni di Bologna chiede il giudizio immediato per Andrea. Il PM contesta al giovane l'omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima. A sei mesi dall'omicidio di Chiara, il suo assassino non si è mai scusato. Questo dimostra una chiara assenza di pentimento. A ciò si somma anche un rischio concreto, quello di vedere la pena del ragazzo ridotta di un terzo, qualora la sua difesa optasse per il rito abbreviato. Il che significa, come ha affermato Vincenzo Gualzetti, il padre di Chiara, che Andrea potrebbe ricevere una pena non esemplare, mentre, sempre secondo l'uomo, sarebbe necessario un processo esemplare per nostra figlia Chiara e una sentenza esemplare con giudici in grado di condannare un gesto così terribile. A sostenere Gualzetti in questa richiesta, peraltro, ci sono altri dieci nuclei familiari distrutti da tragedie simili alla sua. Tutte persone entrate a far parte di un gruppo che si oppone agli sconti di pena per gli omicidi commessi da minorenni e che chiede una revisione dei codici. Il loro scopo è sbarcare a Roma con una proposta di legge. Natascia Lipari, portavoce del gruppo, afferma Le leggi minorili sono da rivedere. Suo figlio, nel novembre 2020, è stato ucciso da tre ragazzi, due dei quali minorenni. Per loro sono state emesse condanne da sette e dieci anni. La donna continua dicendo Non esiste che a quattordici, quindici, sedici anni si tolga la vita a una persona e la legge permetta un rito con sconti di pena e neppure l'ergastolo. Questo perché, conclude Natascia Lipari, per chi perde un caro in un omicidio, la pena non si esaurisce mai. C'è l'ergastolo. Mentre loro, dopo dieci anni, sono fuori. Il Tribunale per i minorenni di Bologna intanto rigetta la richiesta di rievoca del carcere avanzata dal difensore di Andrea che aveva chiesto in sostituzione il collocamento in una comunità. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio. Ma procediamo. La difesa di Andrea ha chiesto un rito abbreviato condizionato a una nuova perizia psichiatrica. Rito abbreviato che, vi ricordo, dà diritto ad uno sconto di un terzo della pena. L'incarico della perizia viene conferito il 3 maggio. Al riguardo, Vincenzo, il padre di Chiara, commenta Gli effetti collaterali di questa richiesta è che adesso, ovviamente, si allungano i tempi di tensione e di attesa per una sentenza che noi eravamo convinti sarebbe potuta arrivare già ieri. Di sicuro sono curioso, appena possibile, di leggere gli atti relativi all'interrogatorio e alla deposizione dell'accusato. L'udienza è durata parecchio, ma non so bene cosa ha detto e cosa gli è stato chiesto. Ancora una volta, però, ribadisco che dall'altra parte, dalla prima richiesta di scarcerazione a quella per il rito abbreviato, fino all'ennesima perizia, si continua a non voler prendere coscienza di quello che è successo e ad oltraggiare, in un modo o nell'altro, la morte di Chiara. Da genitore, penso che quando un figlio sbaglia, soprattutto se in determinate maniere, è giusto che paghi. Vincenzo non si stanca di ripetere. Ci sono diecimila modi per uccidere una persona. Chiara poteva essere spinta, poteva cadere o battere la testa. Invece tutto è avvenuto in modo studiato e un genitore deve prenderne coscienza. Responsabilizzare i figli è anche questo. Quello che è successo, è chiaro, lo ha fatto con lucidità, cercando inoltre di depistare le indagini, neanche se continua a insistere su questa voce di un demone che gli avrebbe chiesto di compiere determinate cose. Stremo a vedere cosa ci dirà la nuova perizia, ma se non dovesse dimostrare che tutte le altre sono errate, probabilmente diventerà più difficile per la difesa avere delle ragioni su cui appellarsi. Fa sicuramente male vedere come si stia cercando di giustificare la mattanza che è stata fatta, ma ripeto, noi continuiamo ad avere piena fiducia nella giustizia. La perizia dovrebbe conferire a grandi linee le conclusioni a cui era arrivata la consulenza disposta dall'accusa in fase di indagini. Secondo quanto depositato allora, il giovane era pienamente capace di intendere e volere al momento dei fatti. La nuova perizia approfondisce anche il tema della maturità del sedicenne, stabilendo che non ci sarebbero deficit tali da incidere sulla sua capacità di autodeterminarsi. Per sette lunghi mesi, tra la consulenza del PM e la perizia del giudice, la psiche dell'adolescente è stata scandagliata da almeno quattro professionisti. Un passaggio necessario alla luce delle farneticazioni e dei deliri consegnati agli investigatori, a caldo dopo aver ucciso Chiara e aver tentato di inquinare le prove. Per il consulente del PM, quello di Andrea è un tentativo di manipolazione realizzato attraverso l'attribuzione lucida e dialetticamente orientata delle proprie responsabilità alla voce. In realtà, a caratterizzarlo è, cito testualmente, un grave deficit di rimorso o senso di colpa, coerenti con quanto compiuto in una pressoché assente capacità empatica o di scrupoli e freni inibitori. Se davanti a carabinieri e magistrato il sedicenni ha ricostruito compiutamente il delitto spiegando di aver pulito le scarpe dal sangue e di aver nascosto il coltello, nei colloqui ha detto di non ricordare quei passaggi, attribuendo comunque il suo comportamento al demone. Non l'ho fatto io, era come se sognassi, lui agiva e mi controllava. Un'autossoluzione che per il consulente denoterebbe un atteggiamento deresponsabilizzante e lucido. Vincenzo Gualzetti, domenica 24 luglio, ossia il giorno del suo compleanno, passa tutto il giorno nella caserma dei carabinieri per denunciare dei post su Instagram che l'hanno indignato. Un detenuto dal carcere minorile del Pratello a Bologna prima ha risposto a un commento sotto a una vecchia foto del profilo di Andrea, poi sul proprio profilo ha pubblicato una serie di video comprese immagini della struttura detentiva bolognese e alcuni selfie con altri ragazzi. In uno, Vincenzo Gualzetti ha riconosciuto Andrea che comparirà davanti al giudice nell'udienza del rito abbreviato e che sarebbe compagno di cella dell'altro giovane. Nella foto si vede Andrea comporre con le dita la V di Vittoria, ma la domanda che si pone Vincenzo è cosa ha vinto? Cosa festeggia? Rivedendo le frasi e le immagini sui social per cui la procura minorile ha aperto un fascicolo per ora senza ipotesi di reato, l'uomo dice di sentire sdegno più che dolore. Anche il Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero ha chiesto ai vertici dell'Istituto una relazione in merito alle immagini scattate nel carcere di Pratello. Il tutto è stato postato secondo la ricostruzione della persona incaricata di far chiarezza sull'accaduto da un tablet forse manomesso per aggirare le restrizioni o comunque agganciato a qualche rete libera. Si tratterebbe giro dei dispositivi dati in dotazione ai detenuti durante la pandemia per tenersi in contatto con i parenti, oltre che per studiare e sostenere esami universitari. Il compagno di cella di Andrea posta una chiara risposta a chi chiede una pena esemplare per il compagno di carcere scrivendo fatevi i cazzi vostri non sapete niente se avete le palle entrate qua da noi in carcere siete bravi a giudicare ma non sapete niente se sei così depressa da chiedere ad uno di ammazzarti cazzi tuoi. Un'allusione impossibile da digerire per la famiglia di Chiara. Papà Vincenzo afferma con forza Era l'allegria fatta persona la depressione è una delle giustificazioni inventate da chi l'ha ammazzata come il demone che gli avrebbe ordinato di farlo. Lei come tutte le adolescenti aveva le sue piccole delusioni che fanno parte della vita sognava il principe azzurro ma era tutto tranne che depressa. L'ho trovata una cosa molto offensiva sia nei confronti della sua memoria che di chi soffre di depressione e ha bisogno di essere aiutato. A questo ragazzo dico solo come si fa a manifestare apprezzamento per chi ha compiuto un gesto del genere. Spero che vengano presi giusto i provvedimenti e che la sua detenzione serva a farlo ravvedere a fargli realizzare che la vita non è quella della sua risposta. Il 27 luglio 2022 il PM della procura per i minorenni di Bologna chiede una condanna a 16 anni e 6 mesi per Andrea. Alla fine il ragazzo viene condannato a 16 anni e 4 mesi. Detto questo ragazzi io ho finto di parlare in questo video fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo caso tremendo. Ovviamente Chiara non meritava di fare questa fine ma l'unica cosa che mi sento di dire in questo video è che persone come Andrea mi spaventano. Mi spaventa che un ragazzino di 16 anni possa arrivare a fare una cosa del genere. Io non me lo spiego come sia possibile che un ragazzino di 16 anni arrivi a pensare a commettere un atto del genere premeditandolo pure. Io sono davvero senza parole cioè non ci sono parole per questo caso secondo me è terribile è terribile soprattutto il fatto che lui cerchi di deresponsabilizzarsi dicendo ah sì sento le voci è una cosa seria anche questa è una cosa seria ci sono serial che hanno colpito perché erano totalmente fuori ce ne sono parecchi non si giustificano ma si cerca di comprendere perché abbiano agito in quel modo e quindi si cerca di capire che problemi a livello mentale avessero ma una persona lucida che decide di uccidere una persona e poi scientemente davanti agli inquirenti dice no vabbè ma io sapete l'ho uccisa perché c'è il demone Samael l'angelo del giudizio che mi parla e mi dice di fare cose brutte trovo una cosa disgustosa disgustosa sei stato in grado di ammazzare una ragazzina devi essere anche in grado di ammettere quello che hai fatto spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questo caso qui sotto io vi leggo tutti lo sapete ve lo dico sempre quindi come al solito ci becchiamo nei commenti detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti